Microsoft come al solito ha fatto uscire in pompa magna il Windows 11 il 24 giugno del 2021. Da quella data è cominciato il tormentone da parte di parenti, amici e clienti. La domanda che mi viene rivolta è ma io devo passare a Windows 11? Bene, la mia risposta è sempre stata un secco no. Quest'oggi vorrei che esaminassimo insieme le ragioni che mi portano a pensarla in questo modo, precisando che non si tratta di una simpatia o antipatia di carattere personale nei confronti di questo sistema operativo bensì di considerazioni fatte sulla base di un gran numero di esperienze da parte dei clienti ma anche di recensioni di riviste di settore e non ultimo dalle notizie e dai bollettini diffusi dalla stessa Microsoft. Come sempre tuttavia prima di iniziare ci tengo a chiarire che non si tratta di considerazioni che vogliono avere una valenza assoluta e che anzi le esigenze possono variare caso per caso e soprattutto che se hai un Windows 11 che ti funziona bene non è assolutamente il caso di tornare ad utilizzare Windows 10. Allora ti senti pronto? Iniziamo! La prima cosa di cui ci accorgiamo nel momento in cui abbiamo appena installato il nostro Windows 11 riguarda il menu avvio e in generale la barra delle applicazioni. Quello che notiamo è che il menu avvio si trova questa volta al centro anziché essere posizionato sul lato sinistro come siamo abituati a fare con Windows 10 e che invece sul lato sinistro c'è questo tasto abbastanza inutile che serve ad aprire i cosiddetti widget che sono quelli relativi al meteo e ad altre funzionalità che possono essere più o meno interessanti ma il problema è che questa porzione qui va a consumare una quantità di risorse del sistema che potrebbero essere tranquillamente destinate ad altro appesantendo di fatto il Windows 11. La prima cosa che possiamo fare volendo per ripristinare le cose è cliccare in un punto vuoto della barra in basso con il pulsante destro, selezionare impostazioni della barra delle applicazioni e andare a disabilitare alcune cose. Quello che io ti consiglio di disabilitare è la visualizzazione delle attività se non lo usi, i widget per l'appunto per risparmiare un pochino di memoria e soprattutto questa chat che per quella che la mia esperienza personale non viene usata veramente da nessuno. Se poi siamo abituati ad avere il nostro pulsante di avvio il nostro tasto start sul lato sinistro quello che possiamo fare in Windows 11 per ripristinare la situazione è andare qui in basso dove dice comportamenti della barra delle applicazioni, cliccarci su una volta e qui dove dice al centro spostare a sinistra il nostro menu avvio. Sempre a proposito del menu avvio e quindi del tasto start quello che possiamo rilevare è veramente un assurdo assoluto spreco di spazio e una incongruità nel momento in cui lo andiamo ad aprire perché quello che ci mostra sono delle applicazioni che ci propone il Windows stesso pensando che ci possano essere utili e notiamo invece nella parte inferiore un sacco di spazio sprecato per i cosiddetti articoli consigliati che poi sarebbero altre applicazioni che vengono usate più o meno frequentemente nel nostro computer il tutto a discapito di questo tastino tutte le app che invece eravamo abituati a vedere immediatamente nel Windows 10 appena premevamo il tasto avvio. Infatti per visualizzare le app installate sul computer con Windows 11 saremo costretti ad andare a cliccare qui per poterle finalmente sfogliare. Un altro motivo di disappunto personale lo riconosco a riguardo del Windows 11 concerne il cosiddetto menu contestuale. Che cos'è il menu contestuale? Il menu che otteniamo premendo in un punto della finestra con il tasto destro. Questo è il nuovo menu contestuale di Windows 11 che io trovo molto limitante. Se infatti in una qualunque cartella noi vogliamo andare ad effettuare per esempio un'operazione come copia o incolla noteremo che sono scomparsi i relativi comandi sostituiti da queste piccole icone in alto che sono appunto taglia copia incolla rinomina e elimina. Cosa decisamente poco intuitiva per chi è abituato al vecchio menu. Per poter vedere il vecchio menu saremo costretti ad andare in basso su mostra altre opzioni e a questo punto troveremo il nostro menu tradizionale a cui ripeto io personalmente rimango molto affezionato perché lo trovo molto immediato molto intuitivo e soprattutto molto veloce. È possibile tuttavia ripristinare questo menu facendo un'operazione non proprio semplicissima ma molto rapida che vorrei farti vedere. La prima cosa da fare è andare a cliccare qui su cerca in alto scrivere cmd cliccare con il pulsante destro su prompt dei comandi e scegliere esegui come amministratore. Fatto questo acconsentiremo che vengano portate modifiche al dispositivo e nell'ordine andremo a digitare tre comandi che ti lascio in descrizione. Me li hai visti inserire rapidamente perché ho fatto semplicemente un copia incolla cosa che potrai fare anche tu nella stessa identica maniera. A questo punto possiamo chiudere la finestra cliccare con il pulsante destro e vedremo ricomparire il nostro vecchio menu contestuale. A questo punto mi potrai eccepire che tutti quelli che ti ho riportato finora sono meri problemi stilistici che al limite possono andare ad influenzare solo in minima parte quella che è l'esperienza utente e non certo la funzionalità del sistema. Purtroppo però si tratta della punta dell'iceberg di quello che ho potuto rilevare fino ad ora insieme ai miei clienti. Un grosso problema riguarda per esempio le stampanti e in genere il vecchio hardware che non viene correttamente riconosciuto da Windows 11. Certo naturalmente ci sono molte eccezioni e generalmente ad esempio le stampanti HP vengono ben tollerate da Windows 11 anche quando sono un po' datate. Però immagina di avere una vecchia stampante 3D oppure un multifunzione non recentissimo ma ben funzionante e di quanto possa essere frustrante dopo il passaggio al nuovo sistema operativo non poterli collegare neanche effettuando l'aggiornamento dei driver qualora fossero disponibili. Un altro grosso scoglio che è stato riscontrato con Windows 11 riguarda le reti wifi non protette. Windows 11 infatti nonostante numerose patch pubblicate fino ad ora da Microsoft sembra avere grossi problemi nel collegamento a questo tipo di reti. Certo può essere interpretata come una questione di sicurezza però immagina quanto possa essere frustrante dover aspettare ad esempio delle ore in un aeroporto e non potersi collegare alla sua rete wifi o ancora dover soggiornare per lavoro o per di letto in un hotel e non poter usufruire della rete wifi ed essere costretti a utilizzare per tutto il tempo l'hotspot del proprio smartphone. Diversi giocatori di videogame infine mi hanno riportato dei problemi di stuttering derivanti da Windows 11. Che cos'è lo stuttering? Lo stuttering è volgarmente detto quando un gioco va a scatti. Questo sì sicuramente può dipendere dal server, in questo caso si parla di lag ed è indipendente dal computer. Ma quando l'hardware o il software del computer hanno delle difficoltà a far girare correttamente il gioco così parla appunto di stuttering, cosa che si è verificata con diversi giochi in abbinamento a Windows 11. Insomma, alla fine della fiera secondo me la vera domanda è perché dovrei installare Windows 11? Riflettiamoci. Windows 10 dà meno problemi e verrà ancora supportato per molti anni. Resta compatibile con tutto e stando alle ultime indiscrezioni Windows 12 dovrebbe uscire nell'ottobre del 2024. Insomma, secondo me vale ancora la pena aspettare. Ma naturalmente queste sono solo mie impressioni personali basate su quella che è la mia esperienza e l'esperienza che come sempre ho potuto fare insieme ai miei clienti. Sarebbe bello comunque che anche tu mi facessi sapere le tue esperienze e le tue opinioni in merito. Nel frattempo non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.